Imprenditrici, commercianti, artigiane, ristoratrici del centro. È in preparazione per tutte le figure femminili dell'imprenditoria del centro storico cittadellese un progetto della Camera di Commercio che vuole raccontare e raccogliere le istanze di un certo numero di imprese gestite da donne per qualsiasi categoria merceologica. Si tratta di una serie di interviste alle titolari con la raccolta delle loro proposte che verranno presentate all'amministrazione comunale durante una serie di incontri che si terranno nell'estate 2022. Il tutto verrà poi documentato in un ebook che verrà pubblicato entro la metà del 2023. Il commercio di cittadella, ha commentato il sindaco Piero Bon, viene sempre più preso d'esempio come modello per promuovere sperimentazioni e progettualità per le future evoluzioni del commercio stesso.